Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sulla nostra Gieselberg Farm e quest'oggi siamo sempre con la... si direi la Pons ma non è la Pons e abbiamo la New Holland va bene, non ci sto più capendo nulla, il lavoro mi sta davvero distruggendo siamo qui con la nostra John Deere e quest'oggi... allora mi sono comprato alla fine il campo... questo qua, il campo questo qua bellissimo no, questo bosco qua è davvero immenso, infatti abbiamo già un botto di legna e il mio intento di oggi, dato che abbiamo già usato questo tratto... cioè questo mezzo e il... come si chiama... lo stair per il trasporto quasi quasi venderei lo stair, il rimorchio dallo stair perché già che siamo in bosco direi di utilizzare magari attrezzature boschiva però costicchiano tutti tanto, 300.000... eh... non costa un poco, questo 270, 340, anche questo quindi... boh, è da vedere ma andiamo sulla Baffa, il Komatsu costano un pelo meno comunque si, il Komatsu li costa molto meno 895, 875 250 cavalli, ma beh... non è che cambia tanto boh, magari la versione, più robusto quello li a vederlo si, questo qua è più piccolino, questo qua è più rialzato comunque, l'intento mio più che altro è quello di fare un bel cumulo di... cioè una bella pila di legna qua tipo sulla strada, anche se il punto vendita è là però la pila noi ce la facciamo l'altro che abbiamo la Season come si fa a vedere la vendita qua no la richiesta al test, esatto allora, uova lana, latte liquami, triticale, fieno non c'è la richiesta no triticale, concime eh, non c'è legno, no le piante non ve le vendono ok vabbè, comunque magari aspettare un'offerta delle gnavi, ma anche qua non ci dice quanto ce li pagano i tronchi eh, sarebbe interessante sapere quanto ci pagassero a tutto quanto non stiamo lavorando per nulla, praticamente cotone, lana, latte, cippato, insilato vabbè cippato in inverno ce lo pagano di più 400, 4, non è male ma sapete che abbiamo, mi sa, i prezzi sì, difficoltà, facile ok vabbè, l'intento è quello di prendere qualcosa e portare qua tutto ok, siamo arrivati su da qualche parte con il nostro mezzaccio allora vediamo di passare qua in mezzo intanto, ok, la strada c'è allora io ho tagliato tutta sta parte qua di bosco direi che le piante le potremmo portare su voglio vedere un attimo prima come funziona eh, se funziona bene questo aggeggio o dava problemi ok vedere un po' un metodo per raccoglierli tutti quanti magari senza far casini magari tipo così no no si stiamo facendo casini eh no, fa fatica un metodo un po' veloce senza autoload ovviamente perché se no prendo quello direttamente ok, dai così non è male potremmo farci una pila tipo qua perché no poi ecco dovrei rimuovere tutti i ceppi so che anche non è bello da vedere il fatto di andare a fare le pile così con il come si dice con il con le forche qua davanti ecco era meglio con una gru tipo un escavatore oppure uno di questi però sapete che volendo potremmo allora vi faccio vedere ho fatto un prestito di 600.000 euro per comprare il campo e quindi diciamo che un po' di soldi se ne sono andati ma forse avevo già fatto vedere la scorsa volta non ricordo no, no, beh è comodo questo cavolo per ora utilizziamo questo metodo il ceppo lì intanto è basso chi se ne frega direi di buttare tutto il più sopra possibile mettere il più dritti possibile già che ci siamo si tutto più sopra una parola e poi ci sono tutti questi cespugli qua che stonano davvero tanto cerchiamo magari quelli singoli di lasciarli lì e poi ci pensiamo dopo prendere quelli questi qua che sono un po' tanti guardate che metodo che vi insegno ne abbiamo presi solo due vabbè meglio di niente il controsenso è fare un po' la pila qua però è una cosa cui tengo davvero tanto per ora bloccare qua tutto e chissà mai se stavolta riusciamo a fare un una cioè prendere il campo questo qua trasformarlo in un campo ad erba il campo giù che avevamo fatto l'altra volta purtroppo è andato a finire male l'ho seminato non è più era sbagliato il periodo azzeccando il periodo ci potrebbe stare magari seminarlo ad erba far qualcosa di utile e non sarebbe affatto male si qua poi magari quelli lì li riprendo su uno alla volta alla fine dovrei farcela poi qua mi sistemo tutto per bene so che è una cosa un po' inusuale è stato meglio magari caricare il cassone e andare a vendere subito però possiamo farci tanta roba possiamo fare ciccippato possiamo possiamo fare vender legna e basta non è risposto far più di tanto oppure possiamo mettere un posizionabile di una fabbrica però secondo me non ne vale tanto la pena no vedete anche uno ve lo prende su dopo è da stringere tanto perché se no rischia di uscire fuori ecco la nostra pila è già distrutta si era meglio con la gru me la cavo quasi meglio però dai è più veloce quanto meno questa cosa adesso penso che dal un po' di legna la venderò così magari le piante più le piante piccole come vedete le ho lasciate è un po' una cosa che sto pensando sto cercando di capire ancora cosa fare tutto quanto sto legname che c'è nel bosco no appunto volevo dirvi che le piante piccole le volevo quasi lasciarle ditemi voi che ne pensate se lo trasformiamo in un prato vabbè ovviamente le rimuoveremo però ora come ora non ho intenzione di trasformare il tutto quanto in un prato quindi magari le lasciamo per ora e quelle lì volendole possiamo cippare le tagliamo poi alla fine eh ci starebbe come cosa sapete non sarebbe una cattivissima idea l'ho preso sì poi vabbè qualche tron eh li prendiamo e li cippiamo sì ci sta magari facciamo le pile di legna così poi vabbè per ora usiamo questo aggeggio qua vediamo se riesco a togliere questo questo tronco che è bello estorto magari anche sotto ecco sì non facendo così magari magari facendo così ok dai facciamo qua la pila del legname e su la pila del del cippato ecco una roba simile magari sticeppi me li stice spuli me li rimuovo in qualche modo adesso come vedete andiamo su in cima a vedere un po' com'è la zona qua ho tagliato un più o meno tutto se vedete piante grosse qua che non ho tagliato è per il semplice fatto chi ce le da nell'altro campo dunque praticamente abbiamo 180.000 euro nostri perché abbiamo 600.000 di prestito però il campo in sé vale 700.000 noi siamo con l'altro mezzo tipo solo qua quindi c'è ancora tutta la zona e prevedo tanta tanta roba e volendo non ha senso prendere sto pezzo magari per metterci un posizionabile chi lo sa vediamo adesso io sto facendo la parte qua sopra infatti volevo buttare giù qualche pila di legname per questi qua penso che mi prenderò uno di questi ditemi un po' cosa vorreste John Deere o Komatsu o Rotne magari guardo in giro se c'è qualche mod particolare che costa poco più che altro più che particolare 220.000 questo però c'è l'attacco lì fisso vabbè possiamo montargli le cose vediamo perché non voglio andare sul default poi dopo ci prenderemo magari ancora questo qua proprio di proprietà 180.000 vediamo perché per ora dovremmo andare avanti con il nostro piccoletto guardate qua che casino che ho combinato qua va sistemato un po' tra l'altro stasera sto notando che è da 3 settimane che non ve la porto portando due video 3 video settimana magari due sempre della stessa serie va a finire appunto così mettiamoli un po' bene ok un po' così apri apri forche buttali giù bene eh dai più o meno eh non so magari qualche pila la faremo anche qua mi pulisco un po' la zona e adesso prendiamo un attimo il questo lo portiamo su andiamo su i biretti nel bosco tanto il nostro vicino ci conosce questo volendo posso già passare a rimuovere un po' di ceppi che sicuramente non stanno benissimo allora te lo accendiamo già so che stiamo facendo pieno o meno le cose della scorsa volta però era un video un po' aggiornamento su cosa sto facendo ditemi se volete magari qualche timelapse sul secondo canale al riguardo di queste lavorazioni che so che vi potrebbero piacere io ecco anche twitch non so potrei puntare magari nel weekend sabato o la domenica a portare qualcosa però ovviamente non la sera ma magari la mattina però la mattina è un orario un po' così e non è che tutti stanno lì a guardarsi le live su twitch vedrò poi ecco che fare magari durante settimane un'oretta ci può stare dai è una serie che so che vi piaceva questa qua e soprattutto quando arriviamo alla questione della silvicoltura qua ce n'era un altro dai lo togliamo già che se qua che se non dà sto gran fastidio comodo davanti comunque avete più visibilità ma in realtà dalla cabina non vedete niente si vede meglio da dietro però comunque conviene prima rimuovere il legname e poi passare a raccolta a rimuovere no comunque c'è davvero un sacco di legname magari quelle piante più grosse le teniamo intere e ce le tagliamo più lunghe tipo 8 metri che magari ce le pagano pure di più e ragazzi spero che il video vi sia piaciuto anche se è stato corto so che deve esserci la made in italy ma preferito portare questa che da tanto che non la portavo almeno per darvi un piccolo aggiornamento al riguardo io vi saluto e vi ringrazio lasciate un bel like commentate condividete il video iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi che è molto importante per me e nulla ciao a tutti ragazzi e al prossimo video e al prossimo video e al prossimo video